La compagnia tetrale Tortorese torna a Praia Mare con la commedia La Giusta Misura. Una replica per la compagnia capitanata da Domenico Cirimele, attore e regista, che ha scritto l'opera che si snoda in due atti e che ha già ricevuto diversi riconoscimenti. Sì, è una commedia che portiamo in giro con orgoglio, perché è una commedia che ha già vinto dei premi in regione, due premi importanti, ha vinto un premio come miglior testo originale, e un premio per la scenografia. È una commedia scritta da me per far capire a noi tutti che è la pochezza dell'esistenza terrena. Tutti quanti abbiamo un traguardo dove nessuno potrà scappare. Questo non deve, questo mi ho detto di adesso, non deve far pensare a una commedia triste. La commedia farà ridere per due ore, praticamente per l'intera durata della commedia, pur lanciando questo forte messaggio. Una messa in scena che consolida nuovamente il legame tra la compagnia teatrale tortorese e la comunità praiese. Noi sinceramente l'accogliamo con grande piacere. Nella rassegna a Ballando a Ballando, che è durata qualche mese, abbiamo avuto la possibilità di avere a Praia diverse rappresentazioni che hanno coinvolto dai bambini fino agli adulti. Sinceramente la commedia di domani sera a noi ci inorgoglisce di ospitarla, perché essendo una compagnia locale cerchiamo di dare risalto a elementi esperte che possono esprimersi tramite la commedia. Ci auguriamo che sia anche gradita dai cittadini praiesi e dagli ospiti che in questi giorni stanno passeggiando nella nostra cittadina. Abbiamo intenzione di continuare con altre rappresentazioni teatrali, oltre ad intrattenimenti sia per bambini che per adulti, al Palazzo delle Esposizioni.